cara aurora le mattine sembrano più silenziose del solito non si sentono le grida di gioia o di capriccio del nostro piccolo figlio è tutto troppo calmo e triste quando ci avvisarono che eventi del conflitto si facevano più violenti i nostri cuori iniziò a vacillare la speranza in un futuro più sereno e quel futuro cara aurora sono i nostri figli più piccoli i figli di monsanto io non solo in qualità di sindaco ero preoccupato per la situazione convoca il consiglio degli anziani anna maria al fieri isidoro iovine carlo giro chiossa michele memonio molinari e infine sabino salestri dopo una discussione infinita il consiglio arrivò una soluzione allontanare i bambini dal pericolo della guerra vicina a dove per prendere un provvedimento in tale portata vennero chiamati anche gli altri due capofamiglia celestino chiossa e martino molinari celestino avvisò a tutti di essere a conoscenza di un accordo che vinacciolo strinse con la capitale gli loro bambini sono stati inviati presso la grande città e tutto il piccolo paese si è impegnato a pagare la retta per il mantenimento dei bambini se tale pagamento non verrà rispettato tutti i piccoli figli di vinacciolo verranno affidati a famiglie della capitale anche martino disse di aver sentito di quell'accordo e insieme a celestino si mostrò propenso per seguire l'esempio di vinacciolo si unirono in favore anche altre voci e io indichai questa soluzione come la più valida tra tutte sabino propose che la badessa sorella sante potesse trovare il posto più adatto per ospitare i nostri figli nel momento che lei nella capitale aveva preso i voti spuntò fuori il convento maria consolatrice gestito dalla madre superiore aurilia la decisione quindi venne presa i bambini del villaggio ben 15 dovevano trovare ricette in quel convento della capitale e tutti i monsantesi nessuno escluso si sarebbero fatti carico della retta strinse in accordo con l'ommesso della capitale e con celestino chiossa come rappresentante di tutti i capofamiglia 50 monete all'anno per ogni pargolo fu questo il prezzo partuito inutile dirti come questa scelta venne presa dai vari genitori molti di loro si arrabbiarono moltissimo specialmente con celestino indovina chi ha più figli inviati nella capitale ma celestino che nel convento ne ha spediti ben cinque inoltre è stato esonerato dal partire per la guerra poiché in totale ha sei discendenti a causa di una legge che prevede che chi ha almeno sei figli non debba partecipare al conflitto quel chiossa da allora si è tirato l'antipatia se non addirittura l'odio di molti concittadini che lo ritengono ancora oggi un vigliacco opportunista ad ogni modo tutti i monsantesi si stanno impegnando con solerzia affinché quella tassa venga pagata nessuno desidera perdere il proprio pargolo affidandola chissà chi il nostro villaggio deve avere un futuro senza perdere le sue radici ed è per questo che prima della partenza per la guerra ogni genitore appenderà un sacchetto con un bottone appartenuto ai propri figli in un luogo chiamato il riparo dei ricordi così loro saranno per sempre con noi sì amore mio domani appenderemo anche noi quel sacchetto prima che io vada a svolgere il mio dovere prima che io mi allontano per difendervi tutti per sempre tuo Alberico Alfieri